Vivi l'avventura a bordo di Renault Kajar, il perfetto liato in qualsiasi circostanza. Silhouette compatta, look avventuroso, una notevole altezza da terra e trasmissioni 4x4 o 4x2. Kajar incarna pienamente lo spirito del crossover e si trova a suo agio tanto sulla strada quanto al di fuori dai sentieri battuti. Tutto è stato pensato e studiato per favorire l'aerodinamicità. Il design dei cerchi e dei retrovisori, l'inclinazione dello spoiler e dei reflettori, ogni cosa è stata ottimizzata per poterti garantire una guida assenza precedente. All'interno regna l'eleganza, l'abitacolo è spazioso e confortevole con una luminosità sorprendente, il volante è in pelle e a doppia colorazione in grigio scandito e carbonio. Le punti diamanti di Renault Kajar sono senza dubbio comfort e spaziosità. Con il pianale del bagagliaio in posizione ribassata ed i sedili posteriori sollevati, la capacità di carico arriva fino a 527 litri. Il meglio che puoi trovare nel mercato di crossover. Vieni a scoprire Renault Kajar nella versione cambio automatico o manuale. Tutte le nostre vetture sono certificate dai nostri automotive expert e sottoposti a tutti i controllo a 200 punti. Hai ancora qualche dubbio? Non ti resta che venire a trovarci. Noi siamo la Ratti, non solo auto, ci troviamo a Barzago, a solo 30 km a nord di Milano. Ciao! 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 Grazie a tutti.